Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Carlotta e noi siamo sempre qui all'IFA 2017 e abbiamo appena assistito alla conferenza di Panasonic. Adesso andiamo in giro per lo stand a mostrarvi alcuni dei prodotti che ci sono piaciuti di più, però prima sigla! Uno assolutamente dei prodotti più interessanti che abbiamo visto durante la conferenza sono le nuove TV OLED. Qui abbiamo alcuni degli esempi delle varie TV, tra cui anche quella da 70 pollici e qui possiamo vedere queste TV dai colori assolutamente nitidi e fantastici perché hanno nel frattempo collaborato per la realizzazione di queste TV tra alcune tra le case produttrici hollywoodiane più famose proprio per cercare di mixare il più possibile i colori e avere un'esperienza cinematografica più vera possibile. Le TV, vederle così dal vivo, sono assolutamente fantastiche e i colori ci sembrano assolutamente belli. Non solo qualità dei colori, perché hanno presentato durante la conferenza anche delle TV che qualitativamente le immagini sono molto molto belle grazie all'introduzione dell'HDR10+, che è un nuovo sistema che vedremo introdotto non solo quest'anno ma vedremo che verrà introdotto in tutte le altre TV nel 2018. In più le TV non saranno soltanto a livello tecnico e anche a livello di colori assolutamente bello ma Panasonic si è impegnata anche per creare delle TV che siano anche belle da mettere all'interno delle proprie case facendo una grossa collaborazione con alcuni interior design. Ecco, possiamo vedere delle TV che possono essere tranquillamente inserite a casa senza risultare fastidiosi all'interno dell'arredamento. Quanto riguarda la musica, Panasonic ha presentato una nuova e fantastica cassa chiamata GA10. Questo aggeggino che sembra piuttosto piccolo e vi posso assicurare che anche il peso è piuttosto contenuto in realtà è molto molto potente perché avrà due casse situate qui e una cassa situata qua al centro e il suono è assolutamente ottimo, idem come la potenza e qui troveremo tutti i controlli. La presentazione di questa nuova cassa è stata piuttosto scenica perché a un certo punto sono apparsi dal cielo perché quello che volevano mostrarci è che non ha fili, non ha niente, è assolutamente bluetooth e si attiva tramite Google Assistant. Quindi bisognerà dire ok Google e qualche cellulare sarà partito e da lì potremo scegliere il tipo di canzone, il tipo di musica che vorremmo mettere e potremo posizionarle in qualsiasi zona della casa senza nessun problema. Qui dallo stand di Panasonic è tutto, continuate a seguirci per avere tutte le analizie direttamente qui da IFA 2017 fate i bravi, ciao!